ancora una buona moneta questa volta per tre anni dove si rivede il record della generazione uccello jet in quel di capannele dopo una gran corsa sbagliato in zona traguardo insomma infatti lui è il più gettonato ma attenzione a quest'urali molto cresciuto arretrato uccello che non partecipa al lancio un po' arrestivo a impegnarsi un po' arretrato uragano tor gli altri bene a rete via la macchina in velocità liberi quasi tutti a partire e così una bigi di galoppo ne approfitta urbi e torbi alle prese courali che tenterà di andare al comando e infatti l'alivo di minopoli gradatamente scivola lungo i birilli tredici e otto a partire e quattro subito a tabellone e si va per linee esterne rimane uragano tor non avendo trovato posizioni poi troviamo ungaro quattrocento iniziali ventinove e quattro parcheggia maisto e ora lunga fila indiana poiché urali a lunga un po' scatenato urali mentre insegue uccello che ha avuto problemi 600 iniziali che se ne vanno in 43 e 7 da uno 12 e 8 ora amministra un po' i birilli riesce un po' a calmare gli ardori il buon francesino e il suo sm conduce liberamente si va al completamento del mezzo miglio tenta la risalita anche uccello ma è molto dietro 59 e 7 16 di frazione e i due hanno preso vantaggio di fronte con urali al comando si va a timbrare il chilometro passato nell'ordine dell'uno 14 e 6 14 e 9 di frazione uccello fa un grande inseguimento ora in quarta posizione cavalli che affrontano l'ultima curva si distende alla grande il varen di turno la frazione di fronte in 14 e 4 fanno 1 e 29 tre quarti di miglio si affaccia uragano tor cavalli al completamento della curva finale urali al comando con uragano che ha avuto un po' di sbandamento e poi va in carburation urali leader ma viene anticipato dall'avversario e cioè urbi e torbi urbi e torbi va sul leader di dentro è uccello che ha fatto un inseguimento da circoletto arcobaleno urali sm si afferma ancora bene 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 1 59 1 1 14 e 4 e intanto c'è la sirena attenzione non è la polizia non è l'autobulanza né i carabinieri ma è la giuria che mette in giudicato l'ordine d'arrivo non ci dovrebbero essere problemi per la vittoria il varen di turno il francesino per il secondo urbi e torbi alla meglio sul cello ma almeno così chiacchiericcia sul traguardo ma la giuria azione la sirena tutto sub iudice per il momento 1 59 1 1 14 e 4 2 36 al totalizzatore linea lo studio